Ciao a tutti ragazzi Sono elegante perché oggi è morto Andrea No, non è vero Sono vestito così perché dovevo andare a un casting Vabbè cazzo Oggi vi volevo parlare di una cosa Ovvero della primissima collaborazione che noi del canale ODS abbiamo mai fatto con altri youtubers E si sta parlando di tipo 4 anni e mezzo fa La collaborazione in questione fu fatta con Ilicaoni Un canale youtube di cinema, cortometraggi, serie tv veramente veramente bello E' uno dei miei canali preferiti qua sul tubo Ci contattarono più di 4 anni fa perché leggendo il nostro nome tra i loro commenti La loro ora doppiamo stronzate Si intrigarono e ci scrissero Dicendoci che un loro carissimo amico Federico Sfascia aveva girato un film Ma che aveva bisogno di doppiarlo E ci chiesero se potevamo dargli una mano Noi gli dissimo Guardate ragazzi noi siamo alle prime armi Siamo apprendisti Però vi posso mettere in contatto con la nostra scuola La ODS Operatori Doppiaggi e Spettacolo Che è anche uno studio di doppiaggio Da lì si è passato a lavorare al film A fare i provini A doppiarlo E dopo anni e anni di lavoro Ma soprattutto di mandare questo film ai vari festival del cinema Adesso finalmente questo film è caricato su youtube E visibile, visionabile da tutti Quindi ragazzi se volete io vi invito ad andarvi a vedere I Rack You I Rack You è un film molto intrigante Con varie sfumature anni 80 Una fotografia della Madonna Della Madonna è un termine tecnico Con cose che possono ricordare Scott Pilgrim E una bella influenza quella del film di Edgar Wright Su questo film Con collaborazione di Terry Gilliam Dei Monty Python Se non lo conosce tanto per la cercare I Licaoni E ODS Operatori Doppiaggi e Spettacolo Io ho doppiato Neve Il protagonista Che ha dei seri problemi a vederci chiaro E non vi voglio dire di più Perché è molto intrigante la trama Quindi fidatevi di me Se vi è piaciuto ciò che vi abbiamo portato finora sul canale Fate questo salto della fede E andatevi a vedere questo film Trovate il link in descrizione Io ringrazio nuovamente Federico Sfascia Perché è stato veramente bello lavorare E parlare con lui I Licaoni Che non vedo l'ora di rivedere E spero che questo film vi piace Sia il primo tassello di un nuovo progetto Che i Licaoni hanno iniziato Di portare contenuti di qualità Per così dire Su Youtube Qualcosa che sia più difficile da produrre E realizzare Che un videotag Un haul Un vlog O qualsiasi altro tipo di video Perché qui si sta parlando di cinematografia Anche se con un quattro soldi Quindi se vi piace questa idea Andatevi a vedere il canale di Licaoni E supportateli Detto questo Ci vediamo domenica Con il video della settimana Che sarà Un nuovo video degli Starbomb UUUUUUUUUUUU